I 140 milioni di euro di investimenti messi a disposizione dalla nuova società che gestisce il porto di Gioia Tauro, ossia la MSC, azionista di riferimento di MCT per il rinnovo del parco mezzi dello Scalo Gioiese, sono accolti con entusiasmo dalla CISL, che per voce di Rossi Perrone, segretario generale della UST CISL di Reggio Calabria, parla di ottimismo e di speranza in considerazione di un effettivo e quanto mai necessario rilancio del porto calabrese. Le belle notizie, osserva, vanno accolte senza riserve, perché siamo fermamente convinti che ciò che di buono si produce in questo territorio è giusto vada raccontato e venga posto al centro della ribalta mediatica. Il commissario Agostinelli, aggiunge ancora, afferma che il peggio è passato e noi diamo credito alle sue parole e al suo operato. La sindacalista della CISL invita però a non abbassare la guardia sulla ZES. Fin troppe volte, rimarca, è stata sottolineata la sua importanza strategica per lo sviluppo non solo dell'area della Piana di Gioia Tauro, ma per l'intera Calabria. Strumento fondamentale per le regioni del sud, lo dimostra, spiega Perrone, la scommessa del primo ministro Conte di puntare su una ZES adriatica interregionale tra Puglia e Mulise ed è in quest'ottica che la regione Calabria e la città metropolitana devono ragionare sinergicamente, devono puntare sulle infrastrutture portuali, aree portuali e di collegamento che possono dare l'impulso adeguato alla movimentazione prolificata e multifunzionale al porto di Gioia Tauro. Grazie. Grazie. Grazie.